Accusato di aver dato droga a un detenuto, arrestato il cappellano del carcere di Enna. Caltanissetta, ascisce e cocaina, trentenne segnalato dalla polizia all'autorità giudiziaria. Parcheggio di via Medaglie d'Oro, la segnalazione di un cittadino, risponde l'assessore Fran Giamone. Romania e Sicilia, scambio culturale, sabato e domenica a Caltanissetta. Verso la festa di San Giovanni XXIII, domenica a San Pietro. Erasmus, scuole nissene impegnate in diversi appuntamenti. Antologia Reporter, stasera alle 21 su TFN, la corsa dei camerieri. Sport, calcio, Coppa Italia di eccellenza, la Nissa si ferma agli ottavi di finale. La Polizia Penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, ha tratto in arresto il cappellano del carcere di Enna. Si tratta di Rosario Buccheri, sacerdote che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, che avrebbe ceduto droga a un detenuto nell'istituto penitenziario. La Polizia, inoltre, ha effettuato a casa del sacerdote una perquisizione, dove sarebbero state trovate armi e denaro in contanti. Negli scorsi mesi, come riporta l'Agenzia Anza, la Polizia Penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo aver trovato droga durante i controlli dei detenuti. Gli inquirenti continuano ad indagare per fare ulteriore luce sulla vicenda. A Caltanissetta un trentenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato. L'uomo, pregiudicato, era agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per il reato di atti persecutori. Avrebbe nascosto in casa 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, sostanza che gli spacciatori usano per tagliare gli stupefacenti, e anche una boccetta di popper, sostanza con proprietà tossiche che si assume per inalazione, altro materiale per la confezione delle dosi. Questo quanto ritrovato dagli agenti della Polizia di Stato durante la perquisizione domiciliare e quanto sequestrato. Sotto sequestro anche due fucili ad aria compressa detenuti dall'uomo per accertare eventuali modifiche per accentuarne la capacità offensiva. Gli uomini della sezione volanti hanno denunciato il trentenne alla procura della Repubblica nissena. L'uomo aveva già precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aumento di contagi in Sicilia, lo si evince dal bollettino Covid diramato dalla Regione. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, infatti, la curva epidemica regionale continua ad aumentare, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incremento di nuovi casi positivi è del più 10,04%, con un valore cumulativo di 184 casi sui 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle fra i 60 e gli 89 anni. Si segnala, inoltre, un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni. I dati relativi alla campagna vaccinale, diffusi dalla Regione Sicilia, invece, fanno riferimento alla settimana che va dal 5 all'11 ottobre. Hanno effettuato la terza dose, il 72,32% degli eventi diritto. Lo scorso 13 luglio è stata avviata la vaccinazione per la quarta dose agli over 60 e agli over 12 anni, con elevata fragilità. Dal 1 marzo, infine, sono state effettuate in Sicilia 126.034 somministrazioni di quarta dose, di cui 119.930 a soggetti over 60. Era luglio, quando abbiamo incontrato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta, Marcello Frangiamone, per discutere del parcheggio di via Medaglie d'Oro e delle lamentele di alcuni cittadini sulla modalità di erogazione del resto. Una volta effettuato il pagamento, infatti, gli utenti si ritrovavano con una ricevuta al posto del resto dovuto, con la quale riscuotere la somma una volta recatisi presso l'ufficio. Adesso si torna a parlare del parcheggio, ma questa volta di un'altra segnalazione che riguarda i due piani più bassi, quali si accede dall'altro ingresso del parcheggio, e sulla possibilità di migliorarne l'illuminazione, soprattutto nelle ore serali. È un unico parcheggio, però, costituito da due ambienti completamente separati tra di loro. C'è un parcheggio che si trova nella parte seminterrata e poi la parte rimanente del parcheggio che è piano terra, primo e secondo, quello che è alla luce del sole, l'ultimo piano. Questi due piani non sono mai stati messi in collegamento e quindi vivono, pur essendo tutti gestiti dalla stessa azienda, vivono un po' separatamente. Attualmente il bando per la gestione dell'estrice blu, dei parcheggi a pagamento che comprendeva anche il medaglio d'oro, è scaduto. Siamo in fase di proroga perché si sta provvedendo alla redazione del nuovo bando per la gestione, che dovrà andare in gara entro fine anno. A parte tutte le azioni previste dal regolamento, quindi sarà mantenuto il pagamento, saranno valutati nuovi metodi di pagamento, quindi anche dare la possibilità di pagare con carta di credito o con altri mezzi elettronici moderni. C'è la volontà di fare in modo che il prossimo gestore abbia il compito, il dovere di collegare questi due parcheggi di via di me e di oro, in modo tale da farne uno unico, quindi con un unico accesso e dare la possibilità a chi lo utilizza di provare, di individuare il posto in tutto l'intero parcheggio. Ciò capita spesso che, infatti, molte persone non sapendo la differenza tra i due parcheggi, magari riempie il parcheggio superiore, pensa che non ci sono più posti, ma invece in realtà magari sotto ci sono anche dei posti. Chiaro che anche la parte relativa all'illuminazione, alla migliore efficienza dell'intero parcheggio farà parte integrante del bando stesso. Si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre in Corso Umberto il Festival Scambio Culturale e Tradizionale Romania e Sicilia, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, la Proloco, l'ASIR, Associazione Sociale e Culturale Migranti Rumeni e il Consolato Rumeno. Saranno una o due giorni di grande divertimento dove si esibiranno cantanti rumeni e italiani, di esposizione dei costumi tradizionali rumeni e di assaggi di piatti tipici. Presenti alla manifestazione anche i maestri nisseni Lillo De Fraia e Ottavio Miraglia, dove presenteranno i loro libri Il Dono di un Talento e Le mie Ricette del Territorio Nisseno. Questo bellissimo evento, il Festival Scambio Culturale Romania-Sicilia, abbiamo dei prodotti tipici rumeni, siciliani, appunto in questo scambio, abbiamo i cantanti famosi della Romania, abbiamo anche i cantanti, una sorpresa, anche i cantanti italiani qui del posto. Voglio aggiungere questo Festival Scambio Culturale, è organizzato con il sostegno del governo dei rumeni ovunque, Dipartimento Rumeni ovunque, governo della Romania, in collaborazione anche con il comune di Caltanisseita, che vorrei ringraziare al sindaco, a tutto il suo staff, per questo appoggio che ci danno e che ci sono vicini a noi, per organizzare questo evento. Comincia con le 40 ore, la settimana a San Pietro, parrocchia che si prepara a celebrare la festa di San Giovanni XXIII, domenica 16 ottobre, con diverse messe durante la giornata, e alle 10 quella presieduta dal Vescovo della Diocesi Nissena. A San Giovanni XXIII è stato dedicato anche un busto nell'omonima piazzetta, donato nel 2017 dalla parrocchia in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione della Chiesa di San Pietro. La statua del Papa, beatificato nel 2000 e canonizzato nel 2014, generalmente si trova vicino al fonte battesimale, in prossimità di uno degli ingressi della Chiesa, e a partire da questo lunedì 10 ottobre, è stato spostato sul presbiterio proprio in occasione dei festeggiamenti. Una comunità parrocchiale legata a San Giovanni XXIII, il Papa Buono, Angelo Rogalli, La parrocchia San Pietro di Caltanissetta inizia l'anno pastorale con le 40 ore, quattro giorni di preghiera dinanzi a Gesù e Eucaristia, quattro giorni di riflessione anche sulla lettera pastorale del Vescovo, l'ultima lettera pastorale, l'albero e i frutti, mediteremo su quelli che sono i frutti dello Spirito Santo. Una giornata particolare che in verità a livello liturgico si celebra l'11 ottobre, la data di inizio del Concilio Vaticano II voluto da Papa Giovanni XXIII. Quest'anno daremo maggiore solennità a questa ricorrenza e proprio a domenica 16 ottobre, alla Messa delle Dieci, sarà presente Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, il nostro Vescovo. La sua presenza qui è legata principalmente al fatto che la diocesi di Caltanissetta, scelto quest'anno, è proprio di dedicare l'anno al Santo Giovanni XXIII. E quindi la nostra parrocchia, dove la devozione per tutta la città di Caltanissetta è particolarmente sentita, è particolarmente in festa e vive questa solennità con la presenza del suo pastore, del Vescovo, celebrando il Papa Buono. Sono giorni pieni di attività, confronti, condivisione di idee, progetti tra studenti e studentesse di tutta Europa, esperienze già vissute in altri paesi che vengono raccontate o ancora tematiche da approfondire ancora di più prima di preparare le valigie e affrontare il viaggio. Sono tre giorni di grande fermento per le scuole che decidono di aderire agli Erasmus Days. Diverse le realtà scolastiche del territorio che organizzano nelle tre giornate del 13, 14 e 15 ottobre degli appuntamenti dedicati al programma Erasmus+. L'ITET Rapisardi da Vinci, ad esempio, presenta i due progetti della scuola No Balli No Cry per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e Code of Youth Shield of Human Rights, che parla della dichiarazione dei diritti umani. La scuola nissena con l'evento Join Us for Erasmus Days si rivolge agli studenti delle medie. Nell'auditorium della sede di Viaturati, il 14 ottobre, gli stessi saranno coinvolti attivamente. Gli studenti del Rapisardi da Vinci, infatti, interagiranno con i presenti durante la drammatizzazione in lingua inglese. Si preannunciano anche dei giochi sempre in lingua inglese per riflettere sugli argomenti trattati e ancora musica con la band della scuola. Nella stessa giornata, anche liceo classico linguistico e coreotico Ruggero VII, che ha realizzato diversi progetti legati al mondo Erasmus, organizza un focus group tra chi ha già vissuto l'esperienza e chi invece è in procinto di partire, coinvolgendo studenti e studentesse che per lo scambio hanno utilizzato come lingua veicolare l'inglese e il tedesco. E ancora tra le scuole che hanno aderito, c'è la Carducci di San Cataldo. La scuola secondaria di primo grado ha realizzato diversi progetti negli ultimi due anni. A novembre, ad esempio, si concluderà un programma di formazione all'estero dei docenti con la mobilità in Spagna e lo stesso mese partirà un altro progetto rivolto però agli alunni. Tra oggi e domani, dunque, 13 e 14 ottobre, si prevedono diverse attività durante gli Erasmus Days, tra incontri anche con i genitori, filmati, spot e conferenze ed è stato persino progettato un logo per l'evento che è stato proposto dal docente Leandro Ianni. La Nissa si ferma ammestamente agli ottavi di finale di Coppa Italia dell'Eccellenza. Pesante la sconfitta dei biancoscudati ad opera dell'Akragas 5-2 nella gara di ritorno all'esseneto di Agrigento. Gli akragantini hanno sciupato anche un calcio di rigore nei minuti iniziali della partita con Mansour. Primo gol dell'Akragas all'undicesimo con Pavisic. Sull'1-0 i nisseni tentano più volte la via del pari che ottengono al 46esimo con un gran gol di Azzara. L'Akragas accuse il colpo ma nella ripresa segna la seconda rete al 64esimo con Semenzin. Il 2-1 rinvigorisce i locali che al 71esimo vanno in gol ancora con Pavisic, autore di una doppietta. Al 75esimo Ortiz riapre la partita ma nel finale l'Akragas dilaga con Mansour all'85esimo e Garufo pochi minuti dopo su penalty. Parla Angelo Azzara sulla pagina Facebook della Nissa. Guardando il risultato per noi è una brutta partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo l'abbiamo tenuta fino al 3-2 poi abbiamo subito il quarto e il quinto gol e ci siamo detti e tagliate le gambe da solo. Sarà dunque l'Akragas ad accedere ai quarti di finale il quadro completo dei risultati Acragas Nissa 5-2 Don Carlo Enna 2-0 ai rigori 3-2 Leonzio Taormina 0-3 a Tavolino Modica Comiso 1-1 ai rigori 8-9 Parmonval Resuttana 2-3 Rocca Quedolcese Nuova Igea 2-3 Siracusa Palazzolo 2-0 Sciacca Mazzarese 2-1 Passano il turno Acragas Don Carlo Resuttana Mazzarese Comiso Nuova Igea Siracusa e Taormina Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di giovedì che vedrà il passaggio di una perturbazione sulle nostre regioni meridionali lo vediamo da queste nostre mappe le macchie azzurre e anche viola rappresentano precipitazioni in transito e lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità ecco il sistema nuvoloso con la nuvolosità in realtà più compatta nel sud Italia il resto è stata più che altro di nubi sfrangiate spesso delle velature e questo sistema nuvoloso in transito sull'Europa centrale lambisce un po' al nord Italia ma senza grandi conseguenze verifichiamo le precipitazioni previste da noi con appunto piogge acquazzoni soprattutto nel sud Italia specie nelle regioni peninsulari in allontanamento poi a fine giornata però per il sud sta una giornata molto variabile e instabile qualche locale piovasco anche sull'arco alpino quindi in definitiva ci attendo un giovedì di maltempo al sud lì con piogge acquazzoni diciamo forse anche qualche temporale però poi piogge che si allontanano nella seconda parte del giorno a partire dal versante tirrenico nel resto d'Italia tempo tutto sommato discreto un po' di variabilità lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi con qualche piovasca in giornata ma precipitazioni non particolarmente intense e insistenti le ampie zone di sereno nel resto dei paesi favoriscono anche il clima mite temperature infatti fino anche a 25-26 gradi per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Vizzini Viale Trieste Servizio notturno Eufrate Viale Stefano Candura Viale Stefano Candura